Un saluto a tutte e a tutti dal vostro Andrea Cartotto, ancora sulle orme, sui sentieri della Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. Andate a vedere il video precedente a questo, troverete le postazioni da mitragliatrice e le linee, le postazioni appunto degli austro-ungarici. Percorrendo un ulteriore sentiero, sempre in località Fango, in quota siamo in Trentino, Alto Adige, si arriva poi ai resti di tutto ciò che costituiva una cannoniera. Guardate qui alla mia destra, ovviamente ancorato perché non possa essere sottratto, ma ci sono diverse testimonianze di elmi appartenuti ai soldati austro-ungarici e più in generale ai soldati della Grande Guerra nei musei sparsi sul territorio. Elmi di metallo, pesanti. Nelle testimonianze che si trovano ci sono anche fori, fori da proiettile di pistola, mitragliatrice, granata, punte che venivano lanciate dagli aerei. Ebbene, spostiamoci ancora perché la cannoniera è qui. Eccoci qua, una struttura massiccia nel bosco, bosco non era probabilmente così, ricordiamoci che siamo nel 2024, ma ci si riparava dal nemico e in più, per via degli alberi, anche un po' dal nemico quando veniva dal cielo. Abbiamo quello che resta della cannoniera, i fori, una riproduzione, in realtà sono anch'essi incastonati, proprio gli esempi dei proiettili da cannone che venivano sparati. Voi pensate che ho fotografato io stesso nel museo presente sotto la marmolada, il museo della Grande Guerra, un proiettile che aveva una gittata di 18 chilometri. Eccoci qua, ci avventuriamo all'interno della cannoniera, sentite l'acustica, anche qui il suono cambia, qui abbiamo una struttura davvero ovattata, al riparo, ci si accovacciava e si puntava verso il nemico. Guardate ora, ovviamente coperta dal bosco, adesso usciamo da questa parte più fortificata, vi rifaccio vedere la parte della cannoniera che guardava località Fango, siamo in direzione di un passo montano, il passo San Pellegrino. Eccoci qua, qui ci affacciamo, diciamo che in linea d'aria molto al di sotto abbiamo la strada, strada carrabile, salendo l'alpelusi al passo San Pellegrino. Il generale Inverno, così come le malattie, hanno mietuto numerose vittime nella Grande Guerra. Quello che resta è conservato, manutenuto da volontari. Qui la targa ci racconta che per quanto concerne il comune di Moena è l'associazione storica sul fronte dei ricordi, che ha catalogato, targato le testimonianze appunto di quella che è stata la Grande Guerra. Mi risiedo e vi saluto proprio qui, accanto a uno degli elvi e penso ai civili e ai militari che indossavano pesanti zaini, viveri, armamenti e d'estate ed inverno erano, come dire, sempre alla berlina di una guerra che non sapevano neppure loro dove li avrebbe condotti. Ancora un saluto a tutti e a tutte voi dal vostro Andrea Cartotto, sempre sulle orme della Grande Guerra.